L'impianto di depurazione è un impianto che esiste dal 2003-2004, è stato realizzato da un'altra concessionaria, è stato gestito da quella concessionaria fino al 2010, poi è stato restituito nelle mani dei comuni che hanno poi fatto una gara nel 2014-2015 per l'affidamento della concessione che riguardava sia la realizzazione di opere complementari, soprattutto opere di fognatura ma anche di ottimizzazione dell'impianto e sia poi la gestione successiva. Questa gara è stata giudicata a una ATI, una associazione di imprese composta da CISAF che è una società di reggio e da, si chiamava allora Engineering Tributi, oggi si chiama Municipia, che è una società che gestisce, è una società di riscossione dei tributi e che si occupa in particolare nell'ambito di questo progetto della bollettazione perché questa società, Nobito Acque, attraverso le sue consociate, fa anche la bollettazione del servizio idrico ai cittadini. L'impianto quando lo abbiamo, allora noi l'impianto lo abbiamo rilevato in gestione provvisoria nel 2017 e l'impianto era in buone condizioni come dal punto di vista strutturale, c'erano delle macchine da sistemare ovviamente era stato in qualche modo non ben curato perché il comune non era in grado di farlo in realtà poi noi abbiamo sistemato tutte le macchine che non funzionavano e soprattutto c'era un problema, esiste ancora, anche se molto relativo oggi, un problema di fanghi che nel tempo non erano stati smaltiti e anche per questo abbiamo realizzato questo impianto che questa serra è una serra di essiccazione dei fanghi di depurazione è uno dei problemi più importanti perché è molto onerosa la gestione dei fanghi, lo smaltimento dei fanghi e attraverso questa serra che è l'unica serra, la prima serra in Italia che è stata realizzata ancora oggi è l'unica serra che è stata realizzata in Italia, è possibile abbattere il carico idrico quindi asciugare per bene i fanghi in modo tale da far sì che il loro peso e quindi il costo di smaltimento in discarica sia molto più basso. L'impianto è stato poi quindi ottimizzato, sistemato e ora funziona perfettamente le analisi lo testimoniano. Io volevo precisare una cosa riguardo alla problematica che ovviamente ci coinvolge tutti come cittadini, la problematica dei possibili sversamenti a mare questa problematica ben difficilmente può riguardare gli impianti di depurazione e non parlo soltanto dell'impianto di Siderno, per esempio l'impianto di Siderno a una condotta sottomarina scarica, l'acqua depurata, attraverso una condotta sottomarina che conduce fino a 300 metri nel mare, quindi è impossibile che quando anche fosse sporca l'acqua questo sversamento possa ritornare sulla costa. Le problematiche degli sversamenti a mare coinvolgono invece soprattutto la cattiva gestione degli impianti di fognatura o gli sversamenti di cittadini o di mini impianti di fognatura che in realtà non sono collegati ai collettori e quindi non portano poi la fognatura a mare quindi la cosa che posso assicurare a tutti i cittadini è che l'impianto di Siderno è gestito molto bene, voglio dire che tutti i parametri sono tutti parametri a norma e che anzi l'impianto di Siderno ha un carico potenziale che può gestire perché era stato costruito dimensionato per 83.000 abitanti equivalenti in epoche nelle quali si immaginava che il turismo portasse degli abitanti aggiuntivi un carico organico aggiuntivo in estate che poi invece non si è verificato noi abbiamo il polso della situazione, l'impianto in realtà tratta 30-35.000 abitanti un carico organico di 35.000 abitanti per cui potenzialmente è idoneo a gestire anche i refugli che possano provenire da paesi vicini che oggi per esempio hanno progetti di ampliamenti o di realizzazione di nuovi impianti o di sostituzione di impianti, io parlo dei paesi in sinistra del Torbido e che in realtà potrebbero benissimo collettare presso l'impianto di deporazione di Siderno evitando di realizzare nuovi impianti e di creare altre problematiche gestionali che è ovvio che se c'è un impianto solo ed è ben gestito è molto meglio che ce ne siano 7-8 in giro con problematiche gestionali che tutti conosciamo. Quest'anno è meno pulito rispetto agli altri anni ma comunque resta sempre un mare meraviglioso lo Ionio e infatti io non sono originaria di qua però poi mi sono fermata qua proprio soprattutto per questo mare bellissimo. A maggio durante il montaggio si lavorava belli freschi ma da un paio di settimane l'estate è arrivata e noi siamo pronti sarà un'estate meravigliosa siamo qua da 52 anni quindi pronti per accogliere tutti i clienti italiani e nonne. Ma io sono due giorni che sono qua, l'acqua la trovo, poi sono di origine calabrese quindi per me non c'è nulla di eccezionale. Da dove viene? Da Genova, da Genova. E quindi sono due giorni che sono arrivato, il mare come sempre bellissimo il lungomare, sì, era un po' di anni che non venivo il lungomare l'ho trovato molto modificato però dove siamo adesso mi sembra che l'hanno rimesso a posto se posso permettermi qua è un posto meraviglioso.